Forse il nome di Manute Ball non dirà molto ai più, ma anche se non sia un nostalgico della NBA di una volta, il racconto della vita di questo folcloristico personaggio non può lasciare indifferenti. La sua carriera, le sue iniziative e le leggende che lo circondano, forse seconde per numero solo a quelle di Dennis Rodman, sono ormai entrate di diritto nella storia della pallacanestro e il suo ricordo, è scomparso nel 2010, sopravviverà probabilmente per sempre negli almanacchi di questo sport. Nato in una cittadina sperduta di quel che ora è il Sud Sudan, in una data non meglio precisata. Manute Ball faceva parte del gruppo etnico dei Dinka, una delle popolazioni più alte al mondo. Lui stesso raccontò di come suo padre fosse 2,03 m e sua madre addirittura 2,08 m. Perciò non è sorprendente scoprire che il buon Manute crebbe sino a diventare 2,31 m, ovvero quello che ha sino ad oggi è il più alto giocatore di sempre nella storia della NBA, al pari di Georg Muresan. Dopo una breve passione per il calcio, per il quale non era tagliato, Ball passò al gioco della pallacanestro. Don Feely, ex coach della Fairleigh Dickinson University del New Jersey, nel 1982 finì ad allenare proprio in Sudan, dove scoprì questo gigante e riuscì a portarlo negli Stati Uniti. Lì il giovane africano cominciò un vero e proprio periplo per tutto il paese. Inizialmente la Cleveland State University avrebbe voluto ingaggiarlo, ma i problemi di lingua e di passaporto lo impedirono. Ball infatti all'epoca non parlava una parola d'inglese, inoltre non aveva un certificato di nascita. Gli venne affibbiata come data il 16 ottobre 1962, ma erano tutti concordi nell'affermare che fosse più vecchio. E l'altezza riportata nel documento non coincideva con quella reale. Il motivo? Quando in Sudan lo misurarono dovette sedersi perché era troppo alto. Guardai il passaporto di Ball e c'era scritto che era alto un metro e cinquantanove. Perplesso lo guardai, ovviamente verso l'alto, e gli chiesi spiegazioni. Lui mi rispose quando mi hanno misurato l'altezza l'ufficiale della polizia mi ha fatto sedere e ha preso la mia altezza da seduto. Bene. In seguito venne draftato nel 1983 dai Los Angeles Clippers, ma la scelta fu invalidata sempre per problemi di passaporto e perché il buon Manute non si dichiarò elegibile in tempo. Alla fine, con un programma di inglese per studenti, il sudanese riuscì ad iscriversi alla University of Bridgeport, nel Connecticut, dove in una stagione vantò media di 22,5, 13,5 rimbalzi e 7,1 stoppate a partita. La piccola palestra universitaria, che normalmente richiamava 500-600 spettatori, registrò il tutto esaurito, circa 1800 persone in ogni partita di quell'anno, a causa della curiosità di vedere quel gigante venuto da lontano in azione. Nel 1985 avvenne finalmente il suo sbarco nella NBA, nonostante il parere contrario di molti che gli consigliavano di restare ancora un anno al college. Ma Ball ammise come diventare professionista fosse l'unico modo per guadagnare abbastanza per permettere a sua sorella di sfuggire, di lasciare il sudan. I Washington Bullets gli diedero un'opportunità e Ball non se la lasciò scappare. Nonostante il fisico esile pesava appena 90 kg, il buon Manute divenne un importante uomo di rotazione per ben 10 stagioni nella Lega, specializzato ovviamente nella fase difensiva. In carriera vantò appena 2.6 punti a partita, ma anche 3.3 stoppate per match. Nel suo anno da rookie addirittura 5 stoppate a partita, seconda media più alta di sempre. Nel suo periodo per i Golden State Warriors sviluppò anche un discreto tiro dalla distanza e i suoi canestri da tre divennero ovviamente, subito, degli highlights. Dopo una breve parentesi anche in Italia, a Forlì, i continui problemi fisici lo costrinsero definitivamente al ritiro. Nel suo post carriera dedicò parecchio tempo alla beneficenza ed a raccogliere denaro per aiutare i poveri, i giovani e i rifugiati del proprio paese, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2010. Charles Barclay diceva di lui, se tutti al mondo fossero come Manute Ball, allora sarebbe un mondo in cui mi piacerebbe vivere. È intelligente, legge il New York Times, sa quello che succede in parecchi ambiti, non è un tizio solo da pallacanestro. Durante la sua carriera nacquero diversi miti attorno alla sua persona, molti dei quali raccontati da suoi compagni di squadra. Uno riguarda la sua gioventù. Pare infatti che all'epoca in cui viveva nel suo villaggio, per proteggere la propria famiglia riuscì ad uccidere un leone con una lancia, anche se apparentemente l'animale stava dormendo. Jason Williams, the junkyard dog, compagno ai tempi di Filadelfia, raccontò di come, per mettere su peso, Ball venne invitato a bere parecchie birre. Girava con la birra in mano mentre era nudo nello spogliatoio. Non ha mai giocato una partita da sobrio, probabilmente. Sempre lo stesso Williams afferma che in seguito alla domanda sulle cicatrici sulla testa di Ball, questi gli rispose che siccome non aveva un documento di nascita, si faceva un taglio in testa ogni cinque anni. Contandole, però, Williams scoprì che il sudanese avrebbe avuto all'epoca 55 anni e non 35. Diceva di avere 35 anni, ma vedevo sempre delle cicatrici intorno alla sua testa quando sedevo in panchina vicino a lui. Così un giorno gli chiesi, Manute, cosa sono queste cicatrici sulla tua testa? Lui rispose, i bianchi hanno perso il mio certificato di nascita nella giungla, perciò ogni cinque anni faccio un segno sulla mia testa con una pietra. Al che io risposi, d'accordo. Tuttavia, la partita successiva le osservai attentamente e mi dissi, Manute Ball ha 55 anni? O ancora, pare che al fine di sposare quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Ball avrebbe pagato 80 mucche. Leggendari o meno, queste storie sono diventate parte integrante della vita di quel gigante buono, rimasto nel cuore di molti e che per sempre serviranno a far restare il nome di Manute Ball nella storia della NBA. Ball morì il 19 giugno del 2010 a Charlottesville, in Virginia, a causa di complicazioni renali dovuti alla sindrome di Steven Johnson, una malattia rara contratta durante uno dei suoi viaggi in Africa. Nonostante la malattia fosse in stato avanzatissimo, Ball, due mesi prima della morte fece una lunghissima campagna elettorale in Sudan in favore di Salva Kir Maillardit, attuale presidente del Sudan del Sud, e del suo partito, per portare finalmente a compimento il referendum sull'indipendenza del Sud. Viaggi massacranti, di villaggio in villaggio nella savana, lungo strade impraticabili attraverso mille pericoli e traversie, in una situazione totalmente agli antipodi dalle comodità della sua vita americana. Ma seppur gravemente malato, Manute Ball continuava imperterrito a presenziare agli incontri, stringendo mani, parlando con la gente, sorridendo e toccando con mano il popolo, il suo popolo, che di lì a pochi mesi avrebbe finalmente visto l'indipendenza, nel gennaio del 2011. Ma Ball, sfortunatamente, non fece a tempo a vederla. A giovedì prossimo, per la prossima storia, un saluto, il Franz.